Grazie a tutti. In particolare in alcune aree in maniera un po' più incisiva che quello del rischio della decadenza nell'utilizzo dell'alloggio popolare da parte di alcune famiglie, di diverse famiglie che sono morose e quindi non pagano da tempo il canone di locazione. Siccome questa situazione è diventata emergenziale perché ormai ha raggiunto un numero di famiglie troppo elevato e questo è dovuto anche ad una situazione di scarsità di controllo non esercitata nel corso degli anni, noi dobbiamo arrivare ad una soluzione condivisa con i comuni perché l'eventuale decadenza di queste famiglie dall'utilizzo dell'alloggio popolare non diventi un costo sociale ed economico insostenibile non solo per le famiglie ma anche per i comuni stessi. Per cui abbiamo discusso con l'ufficio di presidenza di Anci Piemonte per mettere insieme i dati, per capire come è distribuito il fenomeno e per arrivare entro la metà di novembre ad un protocollo di intesa che veda attorno al tavolo la Regione Piemonte, le agenzie territoriali per la casa e Anci Piemonte per concordare insieme tutti e tre le modalità operative per affrontare e risolvere tutto il pregresso fino al 2014 e concordare le modalità operative per affrontare le eventuali morosità dal 2015 in avanti. È una situazione molto grave che interessa molti comuni del nostro Piemonte, sono quelli che hanno sul proprio territorio le cosiddette case popolari che da troppi troppi anni non hanno più manutenzione, troppi troppi anni non vengono più gestite in modo adeguato dalle ATC. Finalmente la Regione Piemonte con l'assessore Ferrari ha deciso di mettere mano in modo importante rispetto a questo tema e noi siamo contenti di poter iniziare un percorso. Il percorso deve portarci a due obiettivi, il primo quello della legalità, chi non paga gli affitti potendoli pagare deve essere mandato fuori dalle case, secondo chi invece non può pagare deve poter essere tutelato, deve poter essere aiutato perché altrimenti in ogni caso ricadrebbe sulle spalle dei comuni e quindi sulle casse comunali. Poi abbiamo un assoluto bisogno che Regione Piemonte metta a mano, le ATC mettono a mano alle manutenzioni delle case popolari che oggi sono assolutamente da recuperare in modo importante. Su questi fronti ci stiamo impegnando, nei prossimi giorni incontreremo gli assessori e i sindaci dei comuni interessati per fare il punto con loro e mettere a punto una proposta da presentare alla Regione. Prestissimo ci sarà un incontro fra Comuni, Regione e ATC per individuare le linee di condotta e poi si dovrà partire con il piede giusto per il prossimo futuro sistemando le vicende del passato.